Sei un maker o un visitatore? Sono un maker e mi occupo di produrre spirulina. Qui ho portato un sistema di coltivazione della spirulina, così che si può vedere sia l'acquetta verde, perché è la spirulina che sta nuotando, e poi ci si può anche assaggiare la spirulina qua da noi, perché abbiamo portato anche il prodotto finito. Se uno si stesse chiedendo che cos'è la spirulina, è una microalga. Si chiama microalga verde-azzurra, e l'azzurro, incredibilmente, ce l'abbiamo pure. Eccolo. Questo è un antiossidante naturale, l'unico colore blu naturale che si può utilizzare nel food, e proviene esattamente dalla spirulina. Il vantaggio della spirulina nella sua produzione è principalmente il fatto che è una microalga che viene prodotta ad impatto zero, quindi assorbe CO2 mentre cresce e ne assorbe circa il doppio del suo peso. Cioè ogni chilo di spirulina che io produco assorbe 1,8 kg di CO2. Questo è quello che fa la spirulina. Noi siamo stati ancora più bravi, perché abbiamo strutturato un processo in economia circolare, per cui siamo andati a prendere tutto il calore disperso che c'era in un biogas, l'abbiamo convogliato in una serra, e questo ci ha consentito di produrre spirulina 365 giorni l'anno. Non contenti di ciò, a valle di questo, recuperiamo anche l'acqua di processo che diamo ai campi. Infatti eccoci qui che ve lo mostro in un'infografica che è esattamente questa. Quindi recuperiamo il calore e l'energia, lo riportiamo all'interno della serra, produciamo 365 giorni l'anno spirulina e poi ridiamo l'acqua ai campi. Così chiudiamo il ciclo di produzione senza scarti. Veniteci a trovare.